Ben trovati a questa nuova puntata di Telehaller Milano direttamente dalla sede di Viale Romagna qui nel capoluogo Lombardo. Siamo in compagnia di Mirko Talamona che, come sapete, avete imparato a conoscerlo, è il nostro responsabile Sicurezza. Parliamo infatti oggi a seguito anche di puntate precedenti, vi ricorderete quella tra l'altro molto apprezzata nella sala di videosorveglianza. Dopo quelle puntate in molti ci hanno scritto complimentandosi con Haller per il discorso di sicurezza avviato in alcuni stabili e che dovrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane essere implementato. Infatti possiamo comunicare delle novità in merito alla videosorveglianza? Sì, sicuramente sì. Posso comunicarti che rispetto a quello che ci siamo detti la scorsa volta, il lavoro è ormai ultimato, abbiamo installato tutte le telecabere previste a seguito di finanziamenti di Regione Lombardia. Oltretutto la tecnologia si evolve, quindi queste ultime hanno un rapporto di qualità sicuramente superiore a quelle precedenti, quindi un servizio migliore a uso ovviamente delle istituzioni, delle forze dell'ordine che sono le prime, le dirette a cui interessa questo tipo di sorveglianza. Ecco, perché lo vogliamo ricordare che c'è un ruolo di Haller in prima persona nel controllo del proprio patrimonio, però c'è sicuramente un'ottima collaborazione con le forze dell'ordine. Assolutamente sì, sia per il discorso videosorveglianza e anche sul discorso abusivismo. La videosorveglianza al momento in cui c'è un reato, loro chiedono a noi le immagini per poter capire chi sono i colpevoli di quello che è accaduto. E idem accade sull'abusivismo, perché l'occupazione abusiva è un reato in sé, anche questo, e quindi con l'utilizzo delle telecamere e delle immagini registrate si può riuscire a capire chi sono i colpevoli. Il nostro Mirko Talamona ha parlato inoltre di un'altra gravissima annosa piaga che colpisce le case popolari non solo a Milano, ma in tutta Italia, però naturalmente noi parliamo della grande Milano, ovvero l'abusivismo. Non ti chiedo se ci sono delle novità, però so che non vi state minimamente perdendo d'animo. Assolutamente no. È un'attività in continua evoluzione, ahimè, dettata anche probabilmente da un racket vero e proprio alle spalle che gestisce questo fenomeno. Ciò significa costante monitoraggio da parte di Haller, ciò significa costante partnership con le forze dell'ordine di Milano e le forze di polizia, perché da poco abbiamo anche la fortuna di collaborare con la polizia locale di Milano e stiamo ottenendo degli ottimi risultati sulle occupazioni consolidate, i dati sono abbastanza chiari. Non possiamo ovviamente perderci d'animo e fermarci neanche un secondo, perché è una costante di ogni giorno, ogni notte e su questo stiamo lavorando costantemente, ripeto, portando a casa degli ottimi risultati. Se volete mandare dei messaggi a Mirko Talamona, fate riferimento direttamente al nostro staff alla mail stampa a chiocciolahaler.mi.it. Naturalmente a questa mail voi potete mandare anche consigli, suggerimenti e segnalazioni. Io ringrazio e auguro buon lavoro a Mirko Talamona e noi ci rivediamo la settimana prossima per una nuova puntata di Telealer Milano.